Diciamo che ci siamo concentrati questa volta sulla valorizzazione di un prodotto che è tipico, di fatto il salume, perché viene dagli allevamenti del nostro territorio. Qui si sono messi a confronto anche allevamenti di altre regioni d'Italia per valorizzare in genere il prodotto. Quindi la scommessa è quella di valorizzare dei cibi del territorio, il primo è il salume, vedremo se ci saranno altri nel corso dell'anno. Anche con la fiera di quest'anno abbiamo fatto questo tentativo con Made in provincia di Brescia, valorizzando alcune eccellenze che ci sono sul nostro territorio, sulla provincia di Brescia e non solo.